Buonasera, vuole sapere lui come fa a prendere sempre la linea, cioè quel signore di prima No, no, quello di prima perché lui ha questa... Ha la cosa sessuale Ha la cosa sessuale Dicevo, innanzitutto saluto tutti, complimenti per la trasmissione Grazie Un saluto anche a Ciuffi Grazie E poi volevo dire che insomma ora ragazzi mi sembra l'ora di smettere comunque sinceramente di parlare di tribunali Sì, sì Di sentenze, tanto si aspetta giorni qualcosa che poi non viene neanche È un anno che si parla di questi ossi Sono anni che si parla Sì, sì Dove è Ciuffi? Non lo vedo Ecco Ecco mi va Facciamo vedere Ciuffi Facciamo vedere Ciuffi Ecco, ecco Io ti sento la domenica, le frustate a Cecchiori, alla Marini Qualche volta dirale, non lo so, alla puttana della Madonna, Dio merita Pronto? Sì, buongiorno, buona sera, volevo parlare con il signor Ciuffi Eccolo, speriamo anche lei non dia le cose